È un intervento che riguarda 3,8 km di pista, sulla quale verranno installati 165 lampioni LED di ultima generazione per una spesa complessiva di circa 100.000 euro. Sono iniziati questa mattina i lavori ad opera di Aset S.P.A. nella pista ciclabile Fano-Fosso 6 ore. L'iter, cominciato a fine dicembre 2014, ha coinvolto per sopralluoghi e autorizzazioni il comune di Fano, la rete ferroviaria italiana e Anas. Le operazioni dunque richiederanno la chiusura di alcuni tratti della ciclabile su entrambi i sensi di marcia per il mese di maggio. Questa mattina abbiamo fatto lo start-up di cantiere, abbiamo cominciato la prima fase, il primo fronte di 200 metri e non abbiamo trovato problemi per quanto riguarda, essendo un'opera di completamento, cavidotti e plinti sono come ce li aspettavamo. Siamo anche fiduciosi sul minimizzare quello che è il sacrificio richiesto agli utenti per la fruizione ridotta in maggio, ma con lo stato avanzamento lavori diremo esattamente quando sarà la chiusura. Siamo partiti oggi, ma come ripeto siamo fiduciosi.